non abbiamo quasi più munizioni abbiamo perso il collegamento con il capitano non abbiamo ordini se avessimo almeno munizioni ma sento anche che ho fame e il sole sta per tramontare attraverso lo steccato e una pallottola missibile vicino i russi ci tengono d'occhio corro e busso alla porta di un isba entro vi sono dei soldati russi la dei prigionieri no sono armati con la stella rossa sul berretto io ho in mano il fucile li guardo impietrito essi stanno mangiando attorno alla tavola prendono il cibo con il cucchiaio di legno da una zuppiera comune e mi guardano con i cucchiai sospesi a mezz'aria mi ecco cezi agli esti dico vi sono anche delle donne una prende un piatto lo riempie di latte e miglio con un mestolo dalla zuppiera di tutti e me lo porge io faccio un passo avanti mi metto il fucile in spalla e mangio il tempo non esiste più i soldati russi mi guardano le donne mi guardano i bambini mi guardano nessuno fiata c'è solo il rumore del mio cucchiaio nel piatto ed ogni mia boccata spaziva dico quando ho finito e la donna prende dalle mie mani il piatto vuoto paziausta mi risponde con semplicità i soldati russi mi guardano uscire senza che si siano mossi nel vano dell'ingresso vi sono delle arnie la donna che mi ha dato la minestra è venuta con me come per aprirmi la porta e io le chiedo a gesti di darmi un favo di miele per i miei compagni la donna mi dà il favo e io esco così è successo questo fatto ora non lo trovo affatto strano a pensarvi ma naturale di quella naturalezza che una volta deve esserci stata fra gli uomini dopo la prima sorpresa tutti i miei gesti furono naturali non sentivo nessun timore né alcun desiderio di difendermi o di offendere era una cosa molto semplice anche i russi erano come me lo sentivo in quell'isba si era creata fra me e i soldati russi e le donne e i bambini un'armonia che non era un armistizio era qualcosa di molto più del rispetto che gli animali della foresta hanno l'uno per l'altro una volta tanto le circostanze avevano portato degli uomini a saper restare uomini chissà dove saranno ora quei soldati quelle donne quei bambini io spero che la guerra li abbia risparmiati tutti finché saremo vivi ci ricorderemo tutti quanti eravamo come ci siamo comportati i bambini specialmente se questo è successo una volta potrà tornare a succedere potrà succedere voglio dire a innumerevoli altri uomini e diventare un costume un modo di vivere